lo sappiamo anche noi ma non si può certe cose non le possiamo dire noi io questo non l'ho capito perché? perché abbiamo le mani legate io questo l'ho capito se vuoi bere ti giuro che non l'ho capito ma non mi adegu neanche io io neanche mi adeguo allora ci adeguiamo tutti e due